Aspettate uno su di show Dovete cacciare il video Lavora 12 ore al giorno E in questo periodo non si può asciugare il filore Perché se se lo asciuga il nero gli va in bocca Con un costoro Perché è grezzo C'è tanta gente che si spiega la macchina Perché è grezzo Vi parlate di questo giocatore Perché è grezzo Aspettate uno su di show Normalissimo Normalissimo Però i veri dati spiega il fatto Capisci, 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 capisci Capisci, capisci Con un costoro Importante Capisci Cremulades Capisci Cremulades Il sol minore Cremulades Il sol minore Oh, oh, oh Venti maiali a satanatico Venti maiali a satanatico Aspettate uno su di show Inder Aspettate uno su di show Inder Aspettate uno su di show Aspettate uno su di show Miracolo da me 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 La libertà di pensiero E' il sentimento più alto Che dovrebbe albergare Un essere umano Miracolo da me Miracolo da me Miracolo da me Miracolo da me Miracolo da me